Buonasera, Valde, conferenza stampa post Catania Foggia, la prima domanda è di Armando Borrelli di CalcioFoggia.it, le chiede cosa si prova a fare due gol in una partita così importante? Intanto buonasera, si prova una grande soddisfazione perché è un'intera stagione, puoi irnei play-off fare due gol per la vittoria e godercela con i compagni è molto importante. Ibu, che partita è stata quella di oggi? Foggia è arrivato carico al punto giusto e alla fine è riuscito a sovvertire un po' i pronostici della vigilia? Noi abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare sempre con i nostri concetti e ci siamo portati il risultato a casa. Daniel Miuli di Foggia Calcio Magna gli chiede se senti di poter essere l'arma in più di questo Foggia nel cammino play-off. Io sempre che entro o gioco da titolare cerco di dare il mio meglio, dare aiuto alla squadra e poi si vedrà come andrà nei play-off. Ibu, il prossimo incontro, il prossimo avversario del Foggia si chiama Bari, una partita che non ha bisogno di presentazioni e credo non abbia bisogno nemmeno di particolari stimoli. È un derby, il Foggia come ci apriva? Sicuramente arriviamo con grande fiducia e cercheremo di fare la nostra partita come sempre e poi senza ramarichi a fine partita ci guarderemo in faccia. Con un Ibu Balde in più? Sì, Ibu Balde sicuramente darà il suo meglio, come vuole fare in tutte le partite. Carmine Troisi di Telefoggia invece chiede se è il giorno più bello da quando giochi a calcio e quanto può contare questa doppietta nel tuo proseguo e se hai una dedica particolare? Sì, è una partita molto importante per me che sempre rimarrà in mente perché è la prima partita che facevo nei play-off e fare una doppietta e poi vincere è una partita indimenticabile. Grazie. Grazie. Grazie.